Sì, 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 vai! Ciao cazzone! Io insegnavo, era la mia passione, mi ricordo ancora dei miei studenti, oggi tutti ingegneri sicuramente. Mi piace pensare che abbiano portato a casa qualcosa, l'amore per il lavoro, la passione per la materia. Quando a Milano la situazione degenerò, nessuno avrebbe mai potuto immaginare cosa sarebbe successo. Mi era crollato il mondo addosso, con le leggi raziali mi avevano tolto tutto, il mio lavoro, il mio titolo, la mia casa, ma soprattutto la mia dignità. Mi hanno incarcerato più volte, allontanandomi dalla mia amata Margherita. Di tutte le sofferenze che patì, quello fu l'orrore più grande. Avrei preferito morire. Sono stato gettato violentemente su un vagone, come si fa con il bestiame. La luce era debole, dalle grate ne filtrava poca. C'è un forte lezzo, urla di bambini e di donne disperate, persone che pregano. Alla fine il treno si fermò e voi conoscete già il finale. Non serve che ve lo racconti. Nessuna parola merita di essere espressa. Ho sempre trovato estremamente semplice il parlare di sa, della propria storia. Raccontando emozioni. Eppure in questo momento mi riesce tremendamente difficile, quasi impossibile. Un sorriso sarcastico mi nasce a lati delle labbra ogni qualvolta leggo il numero inciso sul mio braccio. Un numero che mai imparai a leggere e per cui pagai un prezzo molto caro. Ma quel numero era il mio nome. Quelle cifre erano me. Ed è eronico pensare che per un periodo della mia vita smisi di avere un nome. Smisi di essere un essere umano. Smisi di essere. Mi reportarono inizialmente a Mauthausen e definitivamente a Reu Benzè nel 1944. Decisi di gettare la mia fede nuziale, cui avevo stretto attorno un biglietto per i miei familiari. E nel momento in cui lasciai che il vento lo trasportassi via dalle mie mani, senti di aver abbandonato la mia vita precedente. Di aver abbandonato la mia famiglia in un paese che non mi rappresentava più. Mori un giorno prima della liberazione. Ed è ironico, non trovate. Spesso mi chiedo se liberazione sia il termine più corretto da utilizzare. Nessuno di noi, né le vittime, né i carnifici, saremo mai liberi dal male subito e inflitto. Mai liberi dai ricordi. Ed è qui. Davanti alla mia pietra sfregiata che tento di ricordare. E a gran voce racconto la mia storia. Pronuncio il mio nome, che ancora mi appartiene. Angelo Fiocchi È l'inizio della fine. Stamattina mi sono svegliato e sono andato a scuola, come sempre. In classe della solita euforia, abbiamo una verifica di greco, ripasse insieme ai miei amici. All'improvviso un gran trambusto. Una squadraccia strappa a me e dei miei compagni dai banchi di scuola. Sapevo quello che sarebbe successo dopo. Hanno deciso che per farmi accettare le loro idee e per farmi confessare le mie attività clandestini antifasciste, il modo più giusto fosse torturarmi e umiliarmi. Ma non ho ceduto. Così sono caricato su un treno merci diretto a Mauthausen. Vedo tutto buio, sono ammutolito. Penso alla mia famiglia, che sarebbe stata preoccupata per me. Penso ai miei genitori o i miei fratelli avrebbero potuto salvarsi. D'altro canto, non volevo che finissero nelle mie stesse condizioni. Decido di buttare un miglietto lungo il tragitto, sperando che qualcuno lo raccolga e lo faccia arrivare alla mia famiglia e avrebbe raggiunti per dar loro il mio ultimo salute. Scappo nel momento in cui te non sembra rallentare. Cado per terra e corro a nascondermi. Non so nemmeno dove sono. Mi sento osservato da mille occhi invisibili. Ho fame e sete. Sono sfinito. Vedo una capanna e una signora sul luscio. Sono troppo stanco e felice per dubitare. Ma forse avrei dovuto. Vengo catturato ed è portato a Mauthausen, dove resto per 5 stenoanti mesi. È primavera quando gli americani liberano il campo, ma non mi sento liberato. Gli scrittori mi dicono, coraggio, adesso torni a casa. Ma io pensavo, quale casa? Mi chiamo Adele Lombroso. La mia vita non è sempre stata semplice. Persi mio marito molto giovane e mi ritrovai sola a crescere i miei figli. Con pochi soldi e nessuna speranza di miglioramento. Come tutte le mattine mi svegliavo. Preparavo la colazione. Andavo al mercato. E compravo la frutta e la verdura. Ma la mattina del 14 luglio 1938, l'essere di quella sotto casa un manifesto che annunciava le leggi razziali. All'inizio non capivo a cosa si riferissero. Io sono ebrea. Mi preoccupo per me, ma soprattutto per i miei figli. Non so dove siano. Nei mesi successivi notai che Lina, la mia vicina di casa, aveva un comportamento strano nei miei confronti. Pensai perciò di aver fatto qualcosa, di esserle sembrata maleducata in qualche occasione. Però non le die di troppa importanza. Mai avrei pensato che potesse denunciarmi alle autorità tedesche. Fortunatamente, quando le SS vengono a prendermi, Rosa, la mia portinaia, nasconde mia figlia, salvandola da morte certa. Al contrario so che il mio destino non sarà altrettanto felice. Mi trovo in un vagone con tante persone, più di quante esso ne possa contenere. Persone che reagiscono in modi differenti alla situazione. Chi impazzisce, chi invece si ammala per le pessime condizioni e sarebbe sicuramente morto prima di arrivare. Ma il peggio per me arriva quando giungo a destinazione, il 6 febbraio 1944. Tutto finì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.